ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale io sono jored e oggi parliamo di verissimo l'intervista a castro giovanni martin castro giovanni ha confessato il suo segreto a verissimo mi hanno dato sei mesi di vita l'ex rebista argentino concorrente di amici celebrities e volto di tussi che vale si era contato nel salotto di silvia tonfani castro giovanni dopo aver ripercorso la sua vita di successi sportivi ha poi svelato un momento particolare doloroso della sua vita nel 2015 ero in inghilterra ha detto l'ex rebista e ho iniziato aver mal di schiena i medici mi hanno dato sei mesi di vita temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede mi hanno operato ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nevo dopo un mese ero di nuovo in campo in conclusione castro giovanni ha detto non parlo mai di questa cosa per rispetto di chi sta lottando per questa malattia nel 2011 lo sportivo aveva scoperto anche di essere celiaco vissuto da grande è un pochino più difficile ma la superi oggi come oggi ci sono tante cose buone per celiaci ha commentato castro giovanni castro giovanni si definisce un cucciolo tanto che si emoziona anche con kung fu panda spiega alla padrona di casa silvia tonfani infine racconta poi della sua vita privata definendosi innamorato pazzo e a proposito di figli si dice aperto alle adozioni ci sono tanti bimbi da adottare conclude con questo concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altri news un grosso abbraccio da joe red iscrivetevi al mio canale per il nostro canale per il nostro canale per il nostro canale per il nostro canale